Nel quartier generale della Marina Militare premiazione del progetto Scugnizia Vela, la nuova iniziativa di volontariato promossa dall'associazione Life Ollus. Il progetto è rivolto ai giovani che sono a rischio devianza ed emarginazione. La Marina Militare ha messo a disposizione dell'associazione alcuni locali interni alla base navale, dove i giovani hanno potuto apprendere le varie tecniche per manutenere le barcazioni in legno e a vela. A parlarci dell'iniziativa l'ammiraio Edoardo Serra e il volontario di Life Stefano Lanfranco. Noi affianchiamo con grande piacere l'associazione Life in questo progetto, camminiamo assieme con questo percorso difficile ormai dal 2007 e nasce, come ho detto, da una condivisione spontanea di un'idea, cioè quella che il mare rappresenta una palestra di vita importante che consente quello che qualcuno più titolato di me ha definito il restauro di vite. Aggiungerei rispettare e conoscere le regole, le regole del rispetto del prossimo, dei compagni di equipaggio e del rispetto ai regoli in generale, in un ambiente che ci preserva, un ambiente che è quello della Marina Militare, che è il sorgente di quelle che sono le regole dell'arte marinaresca.